Luisa, che cosa ci racconti dell'inverno? Wow, l'inverno è una stagione che è diventata preziosa nel tempo per me. Non mi piaceva perché le giornate corte e poi dovevo stare in casa perché era brutto tempo e magari pioveva e avevo freddo. Ma da quando ho scoperto che posso trarre anche dall'inverno, anche dalle stagioni che ho sempre subito in un qualche modo, degli aspetti molto positivi per me stessa, l'ho rivalutato. E per me l'inverno adesso è vedere, vedere sotto bosco in tutta la sua forma, vedere che comunque anche se inverno qualcosa sta già crescendo, come questo campo che abbiamo qui, e potermi permettere soprattutto in inverno di riposare, di stare al chiuso in casa e non patire il fatto di non poter uscire perché magari ho troppo freddo o c'è brutto tempo. Ma che posso dedicarmi del tempo a me, alle mie passioni che faccio in casa. E poi ho scoperto anche che in inverno è un momento in cui coltivo, coltivo, coltivo e semino tante, tante idee, tanti progetti, tanti obiettivi, che poi dopo, prima o poi, vediamo come andranno a finire.